Buonasera, buonasera. Io credo che tutti insieme dobbiamo lavorare perché l'accordo ci sia, Atene deve far fronte ai suoi impegni che sono impegni di natura economica come è noto, anche l'Unione deve far fronte ai suoi obblighi morali nei confronti di un grande paese come la Grecia e quindi non soltanto una discussione di natura economica sulla quale pure sono stati fatti dei passi avanti ed è fondamentale che il governo Tsipras continui in questa direzione. Anche una discussione su che tipo di comunità vogliamo per il nostro futuro, noi siamo impegnati perché tutti possano arrivare a un accordo e adesso vado a incontrare Tsipras. Grazie, ne vediamo dopo. Grazie. Grazie. Grazie.